Noi siamo stati tra i soci fondatori del club dei borghi più belli d'Italia nel lontano 2001 e eravamo in 44 allora a fondare questo club unico presente nella regione Calabria era proprio Gerace e da lì poi è nato tutto, è nata l'associazione regionale dei borghi più belli d'Italia in Calabria e quindi con l'incresso di altri borghi. Diciamo che la regione Calabria sta appuntando molto sulla riscoperta di quello che è poi l'entroterra dove ancora insistono caratteri identitari che sono propri della nostra gente e questa è la parte più bella. Sicuramente quest'anno è un anno particolare perché a settembre il 6, 7, 8 avremo questa magnifica ed importante occasione che è il Festival dei borghi più belli d'Italia. Il giorno 6 sarà ad Oriolo, sarà soprattutto la parte convegnistica, 7 e 8 settembre saremo a Rocco Imperiale e qui a noi è venuta in mente una cosa, quella di non buttare come si fa in genere le associazioni, i borghi sotto a degli stand di plastica ma quello di aprire i magazzini cioè rendere ancora più partecipe la popolazione. Anche questo è un bel segno di comunità e di dialogo insieme ai nostri concittadini. Poi ci sarà la parte dei concerti, la parte della gastronomia, sicuramente il nostro limone IGP la farà da padrone. Quello che noi stiamo cercando di proporre è un qualcosa che vada oltre al semplice turismo. Vorremmo creare quello che è l'ecosistema Rocco Imperiale, l'ecosistema Borghi, l'ecosistema Calabria quindi razionalizzato a quelli che sono gli ambienti più alti. Tramite il nostro prodotto principe, il limone IGP di Rocco Imperiale, ormai lo conoscono in tutto il mondo. Cos'è che vogliamo fare? Anche tramite queste importanti vetrine nazionali e internazionali come quella che sarà di settembre il Festival dei Borghi. Ecco, creare quello che è un turismo esperienziale a 360 gradi. Il Festival è un evento per noi importantissimo. L'abbiamo ricercato, richiesto, abbiamo lottato per Avello e l'abbiamo ottenuto. Ci abbiamo ottenuto soprattutto per l'Alto Ionio, che è un territorio spesso marginalizzato ma pieno di bellezze e quindi era ora che quel territorio avesse una vetrina importante a livello nazionale e internazionale. L'Oriolo è capofila, quindi accoglieremo le delegazioni di tutti i paesi ospiti. Aspettiamo 360 paesi che verranno quel giorno a Oriolo. Ci siamo organizzati con un team di tecnici che ci stanno dando una mano in quella che è la parte logistica e organizzativa e noi ci siamo impegnati dal punto di vista politico e amministrativo nell'organizzare meglio il nostro borgo con un'importante azione di riqualificazione che abbiamo messo in essere da un paio di anni e che ci troverà sicuramente pronti all'accoglimento di così tante delegazioni. Grazie a tutti!